All'interno di Casa Eroica con un campione, un fuoriclasse, Giuseppe Saronni, due volte vincitore del Giro d'Italia, campione del mondo, trionfatore anche in classiche monumento come la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia. Per un professionista che è stato di questo calibro, com'è che si arriva all'Eroica? Cosa l'ha conquistata di questa manifestazione? Ma io ci arrivo, ovviamente ne ho sentito parlare della grande popolarità e ho voluto esserci proprio per capire che cosa stava succedendo attorno a questo meraviglioso evento. E devo dire che mi sono trovato subito a casa, perché mi sono trovato in un mondo ciclistico che mi ha fatto tornare a quando ero ragazzo. Ho visto poi le biciclette, i mezzi tecnici con cui ho cominciato a correre, che poi sono state le biciclette della mia carriera, dove ho ottenuto le più grandi soddisfazioni e vittorie, ho trovato una marea di gente dove c'è un'aria rilassata, un'aria di festa, gente gioiosa, dove non ha niente a che vedere con l'agonismo, con il fatto di essere concorrenti con qualcun altro. Quindi un clima eccezionale e quest'anno ci sono tornato perché veramente è un evento, è un mondo che mi piace tantissimo. Diciamo che un contrattempo le ha impedito di partecipare a questa edizione, però presto la vedremo in sella ad una bici nelle prossime occasioni. Sì, hai svelato un segreto. L'anno scorso avevo promesso che sarei venuto e avrei partecipato. Purtroppo, ahimè, l'età è quella che è, ho fatto più di quello che dovevo, ho uno strappo alla schiena, quindi non posso partecipare. Ma guardate, vi sto anticipando una cosa importante. L'anno prossimo vogliamo creare con un gruppo di amici, ex professionisti, ovviamente di allora, ragazzi importanti che hanno vinto, insomma che siamo rimasti amici, e parteciperemo tutti assieme, faremo un gruppetto e vogliamo provare a partecipare a questo meraviglioso evento. Ecco, lo spirito quindi di Eroica l'ha sicuramente conquistata. Venendo al mondo del ciclismo, l'evoluzione che ha avuto rispetto a quando gareggiava lei oggi, cosa è cambiato, quanto è cambiato e se insomma si rivede ancora nel ciclismo attuale? Ma ovviamente il mondo cambia, la società cambia, lo sport, il ciclismo ovviamente è cambiato. Il nostro era un ciclismo più di chilometri, quindi più di fatica, più di forza, si spendevano tante energie perché le corse erano più lunghe, i mezzi tecnici, i rapporti, l'abbigliamento, tutto quello che girava attorno al corridore di allora non era tecnologicamente avanzato come quello di oggi, però oggi è cambiato tanto, i ragazzi sono più pronti, più preparati, più veloci, hanno dei mezzi veramente veloci che vanno veramente forte, però io credo che fondamentalmente due o tre cose principali non sono cambiate. La passione, la voglia di soffrire e il sacrificio. Se non hai questo anche oggi non puoi essere un corridore. Un tempo forse c'era magari un po' più di epica, un po' più di poesia, lei tra l'altro è stato protagonista di uno degli ultimi grandi dualismi del ciclismo Saronni-Moserra, è un duello che ha infiammato l'entusiasmo anche di tanti tifosi. Ma sai, il nostro mondo, il nostro ciclismo era un po' più, come dire, lasciava spazio alla nostra inventiva, noi ci vadavamo di più in corsa, senza che qualcuno poi dietro ti suggeriva strategie e comportamenti, eravamo più genuini e forse la gente ci ricorda molto ancora proprio per questo. Grazie. Grazie.